E ora, la grande ricerca di talenti per la carica dei 101 continua. No, 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 no. Grazie mille. Oh, quanto è carino, è molto carino. Il prossimo! Oh, ecco bello. Il prossimo! Grazie, grazie. È uno scherzo. Perfetto! E ora dove possiamo trovare altri 100 come lui? La Walt Disney Pictures e il realizzatore di Mamma ho perso l'aereo presentano il nuovo film con attori in carne e ossa, La Carica dei 101. Oh, mamma. Portati via quella roba.